ora ti faccio vedere che cosa abbiamo comprato ho comprato questa vedi? e che minchia? mi alzo presto anch'io mi alzo presto tu ti alzi quando suona il porco con la chitarra e che minchia? questa è per non prendere il freddo la mattina e che devi andare a dirla messa con quel coso? è come il freddo ma ne minchia non c'hai anche la la maschera c'è anche la maschera eh ti devi mettere tutto ma questa la facciamo trovare al gioco no 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 già ce l'ha lui la maschera tu Isa e io ho la maschera la maschera è bella io ti faccio vedere la maschera guarda qua io togli il caballo no la mattina io mi metto così l'acqua è rimasta ahahahah chi cazzo è rimasto è rimasto c'è quando vai a fare le rapine in banca? certo poi mi dico vediamo A casa! Vabbè, poi cosa hai comprato? È bello eh! Adesso sei proprio forte! Fortissimo! Poi ho comprato la rete per staccare tutte le fighe che trovo tutte le fighe gli butto la rete così ahahahahah Così, alle fighe Questi qui li mettiamo dentro la barca Ah, a cosa serve quella rete lì? Hai capito, Massimo? No! Come no? La rete serve per accappare le fighe No! Allora, compramene una anche a me Anzi, compramene una decina Non ti è! Sei commesso così male? Hai visto? Questo è già il povere del freddo Quando dice la Messa No, me ne so visco Oh, ho! Oh, ho... Ava! Sì